Buongiorno da FT Online, rimbalzo questa mattina per la borsa, Fuzzimib in questo momento in guadagno dello 0,7% circa, vediamo che siamo tornati al di sopra dei 21.700 punti. Non cambia il quadro grafico, negli ultimi giorni abbiamo evidenziato come i prezzi si stiano muovendo all'interno di questa fase sostanzialmente laterale, che può essere anche vista come un canale moderatamente negativo, siamo esattamente nella parte centrale di questa fascia, quindi poco da dire per quelle che sono le prospettive almeno in ottica di medio termine, di breve termine possiamo notare che sotto 21.600, quindi in caso di scesa di un centinaio di punti dai prezzi di adesso si manifesterebbe una nuova fase di debolezza con target a 21.350, la rottura dei massimi di questa mattina, quindi superamento diciamo di area 21.780, 21.8 invece permetterebbe di sperare nel test della parte alta della fascia in questo momento intorno ai 21.950 punti. Si tratterebbe in ogni caso di movimenti di piccola portata che non andrebbero a farci capire quali sono le prospettive per il medio termine, quindi momento incerto per la borsa, purtroppo si sta avvicinando anche il mese d'agosto, evidentemente si stanno un po' tirando i remi in barca prima delle vacanze, comunque questo non è detto invece che nelle prossime istituti non possa aumentare la volatilità proprio a causa della sistemazione in una logica di neutralità dei portafogli, perciò il mercato da seguire in ogni caso con attenzione perché anche se sembra relativamente tranquillo sotto la cenere c'è ancora un fuoco che potrebbe riprendere vivacità anche nel corso del mese di agosto. Il news flow è ricco di novità, abbiamo visto anche nella notte quelle che riguardano sia gli accordi commerciali tra Stati Uniti e Europa, ma anche le novità eclatanti che riguardano Facebook di cui andremo a parlare tra poco. Prima di iniziare l'analisi dei nostri titoli volevo farvi vedere su questo grafico il rapporto che esiste tra il titolo STM di cui abbiamo parlato ieri che è la curva rossa del nostro grafico e l'indice SOX dei semiconduttori di Filadelfia. Prima di andare a descrivere questo grafico andiamo a guardare una slide che è tra quelle che mostriamo durante i nostri corsi, tra l'altro appunto volevo ricordarvi che noi come società facciamo spesso corsi di formazione e a settembre ci sono nuove date, quindi controllate magari sul nostro sito per vedere se ci sono degli appuntamenti che possono essere interessanti per voi. Volevo parlarvi di questa grandezza statistica, il coefficiente di correlazione, in questo grafico abbiamo il rapporto tra l'indice S&P500 e l'indice della Borsa Mondiale, la MSC World, vedete come le due curve siano molto simili come andamento, ma al di là di questo, quindi al di là dell'apprezzamento soggettivo che si può fare o qualitativo che si può fare della similitudine tra le due curve, c'è anche l'indice di correlazione che ci dice quanto effettivamente siano stretti i rapporti tra la Borsa USA e quella mondiale. Il coefficiente di correlazione varia infatti tra più 1 e meno vediamo che nel caso, in questo caso, qui eravamo nel mese di aprile, ma insomma non è variata tanto la situazione, eravamo molto vicini all'unità, quindi correlazione quasi perfetta, significa che la Borsa USA e la Borsa Mondiale hanno un grado di correlazione molto elevato, dove va una va anche l'altra. Difficile determinare, guardando solo il coefficiente, la causalità dei fattori, vorrei capire qual è delle due curve che influenza l'altra, nel caso in questione è evidente che la Borsa americana che influenza col suo andamento, quella mondiale e non viceversa. Qui abbiamo esattamente la stessa cosa tra STM e l'indice SOX dei semiconduttori, vedete come l'indice di correlazione sia stato addirittura prossimo all'unità nel recente passato, a maggio eravamo infatti a 0,97, siamo comunque ancora circa a 0,90, quindi ci testimonia questa curva nella parte alta della nostra pagina che l'indice SOX è quello da tenere sotto controllo per avere indicazioni anche sull'andamento di STM, difficilmente infatti con un grado di correlazione così elevato, a meno che non succeda un decoupling, ma al momento non ci sono indicazioni in questo senso, difficilmente le due curve tenderanno a muoversi in maniera non sincrona per periodi di tempo significativi, quindi se si registrano segnali di debolezza sull'indice è probabile che questi successivamente si trasferiscano anche sul titolo e ovviamente viceversa, questo è il motivo per cui ieri avevamo analizzato il comparto del semiconduttore rappresentato dal SOX come premessa per le prospettive di andamento di STM, se ci sono ulteriori domande e chiarimenti di cui avete bisogno su questo argomento vi prego come al solito di scriverlo sui commenti e al video di modo che possiamo poi ulteriormente approfondire. Passiamo adesso invece ai titoli di cui mi ero proposto di parlare oggi, iniziamo con Fiat Chrysler che ovviamente è sotto i riflettori, ne avevamo già parlato lunedì in apertura di settimana e avevamo evidenziato il rischio che questa ampia fase laterale potesse dimostrarsi un doppio massimo, nella seduta ieri c'è stata la violazione della base della figura, quindi il doppio massimo sembrerebbe stato confermato, oggi siamo in presenza di un rimbalzo che è riportato in quotazione a 14,50 euro circa, la base della nostra figura coincide con il minimo del 5 di marzo a 15,58 euro, un return move su quei livelli è possibile, ma fino a che rimarremo a di sotto i livelli a 15,50 il return move rischia di dimostrarsi solo un rimbalzo temporaneo prima di una nuova fase calante, dove potrebbe andare a finire i prezzi, vediamo che il target del nostro doppio massimo ottenuto come proiezione dell'ampiezza della figura dal punto di rottura si posiziona in area 11 euro, quindi fino a che staremo al di sotto di area 15,50, 15,60 il rischio che i prezzi scendano poi a 11 euro rimarrà elevato, supporto intermedio di cui avevamo già parlato anche lunedì, questa area già toccata dalle quotazioni ieri che coincide con i minimi di ottobre e dicembre dello scorso anno, quindi siamo arrivati su un supporto importante, c'è stato un rimbalzo, ma per il momento è assolutamente prematuro dire che la fase negativa ormai è alle spalle, guardando il contesto grafico si evince infatti che il rischio di ribassi resta elevato, considerazioni del tutto simili anche per Ferrari, se vi ricordate abbiamo parlato del rischio che venisse completato un testa spalle ribassista che era questo, la decline del testa spalle è la linea che unisce i minimi di fine maggio con quelli di inizio luglio, la linea è stata violata il 23 luglio con un evidente gap discendente, le quotazioni hanno poi accelerato senza scendere per il momento al di sotto del supporto ai 110 euro, ma il testa spalle è stato completato, a questo punto solo il ritorno al di sopra della decline, quindi solo se le quotazioni dovessero riportarsi a di sopra di area 116,45 negherebbe le implicazioni negative dettate dalla presenza della figura, il target testa spalle che si calcola prendendo l'ampiezza nel punto più ampio della figura e proiettandola dalla decline dove questa viene rotta si colloca intorno ai 97,70 euro, quindi il rischio in quei livelli è elevato, c'è questo gap lasciato dai prezzi. Il 4 di maggio con una base a 106,45 che potrebbe contenere temporaneamente la flessione, sia nel caso di FCA che nel caso di Ferrari non me la sento di dire che i rimbalzi attuali sono delle occasioni di acquisto, a mio avviso data la presenza di queste figure di cui abbiamo parlato, per il momento eventuali proseguimenti del rimbalzo sono da considerare un'occasione per alleggerire eventuali posizioni al rialzo in essere, salvo poi ricostituirle al ritorno confermato in chiusura di seduta delle due linee che abbiamo evidenziato, la base del doppio massimo e la base del testa spalle. Ci dirigiamo adesso rapidamente su Diasorin, un titolo che è da tenere sott'occhio perché riduce da un bel rialzo, sicuramente molti di voi ne avranno approfittato nel recente passato, però vediamo come le quotazioni abbiano rallentato il loro tasso di ascesa e ieri c'è stata una violazione anche se solo marginale di questa fase di consolidamento che si era disegnata nelle ultime settimane, possiamo vederla sia come un doppio massimo o come anche un doppio massimo dalla leggera inclinazione, quindi teniamo buono la base di questo canale quasi orizzontale per livello di allarme, la linea passa a 93,80, ieri la chiusura è stata a 94,35 dopo che i prezzi erano scesi di sotto della linea nell'intraday, anche questa mattina ce ne siamo allontanati, quindi chi ha posizione rialzo le può tranquillamente mantenere, ma attenzione perché una chiusura di seduta di sotto di area 94 comporterebbe un rischio di inversione o perlomeno di ampia correzione della precedente fase crescente. Su IMA ci è stato richiesto di aggiornare la situazione, abbiamo parlato recentemente di questo doppio minimo che si era venuto a creare nella prima parte del mese di luglio, il doppio minimo era stato completato con il superamento di area 73,45, un livello di prezzo sul quale ci ritroviamo anche questa mattina, sarà interessante capire quindi se la flessione vista nelle ultime sedute è solo un return move a toccare dall'alto questa importante area di resistenza, ora è divenuta supporto e quindi ci sarà l'altra cosa di area 73, potremmo sperare in una nuova fase di rimbalzo, in viceversa invece in caso di scese nuovamente al di sotto di 73 Euro, attenzione perché potremmo avere un'ulteriore fase negativa, il testa spalle che si era creato sul grafico e che aveva terminato la precedente fase crescente infatti ha un target a 69 Euro circa. Veniamo infine a parlare di Facebook che è stato protagonista di un grosso calo nel after hour, ha perso circa il 24% del suo valore dopo la presentazione dei dati, dati deludenti o perlomeno in parte deludenti, ho visto che ad esempio l'utile per azione è stato superiore all'attese ma altre grandezze di bilancio invece sono state al di sotto delle attese, questo ha comportato come abbiamo visto questo grosso ribasso che ha praticamente una sola seduta annullato il rialzo dei 3 mesi precedenti, è vero che eravamo in after hour quindi sarà importante capire oggi alla riapertura del mercato quale sarà effettivamente il prezzo dal quale partiranno gli investitori, c'è questo gap che si era aperto il 26 di aprile con una base a 161 dollari circa, io penso che fino a che saremo di sopra di quei livelli il calo potrà essere riassorbito o perlomeno parzialmente riassorbito in tempi brevi, se invece dovessimo scendere di sotto i 161 dollari ci sarebbe un rischio molto elevato di una vera e propria inversione di tendenza, quindi avremmo il rischio di vedere partire una correzione estesa di questo rialzo che non dimentichiamo, data dai minimi del 2012 a 17 dollari e mezzo circa, quindi ci sarebbe tanta strada da fare prima di arrivare a una correzione cospicua di questa fase crescente, purtroppo lo sappiamo, le correzioni che i ritracciamenti sono proporzionali al movimento che vanno a correggere, tanto più è ampio il rialzo, tanto più potrebbe essere estesa la correzione, quindi attenzione su Facebook, difficile, magari ne riparleremo domani dopo aver visto quale sarà l'apertura di oggi, difficile impostare strategie sul movimento di calo così ampio, direi che si può puntare nel breve ad una reazione, sempre che l'apertura di oggi sia così bassa come è stata la chiusura dell'after hour, intorno ai 170 dollari, ma attenzione perché il mercato potrebbe aver cambiato in maniera stabile il suo orientamento su questo titolo. Per il momento vi ringrazio per l'attenzione, guardo se ci sono domande, ma nel caso andrò a rispondere nel prossimo intervento, visto che già oggi ci siamo un po' dilungati, vi invito come sempre a guardare anche il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, sul quale trovate indicazioni di trading su tutti i titoli di quali abbiamo parlato e vi do quindi appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.